Ciao ragazzi, qui è Subbit e benvenuti in questo Let's Play di God of War Ragazzi, scusatemi se dopo tantissimo tempo riprendiamo col nostro carissimo Kratos Ma scusate, ho avuto molto impegno da fare, sia al lavoro che in generale Anche se ho iniziato, come si dice, la serie di World War 2 Mi farebbe... Mi farebbe tanto piacere sapere dove dobbiamo andare Perché ora non mi ricordo nulla Cioè, come vi posso dire, è passato un po' più di tempo Cioè... Sì È passato veramente molto tempo Allora, questo come si faceva che non mi ricordo Aspettate un attimo Vabbè, qua Atreus doveva avere l'abilità qua, se non mi ricordo male Ok, dobbiamo andare di qua, seguiamo la freccia Vai Vai Kratos Allora, dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare di qua mi pare Eh, sì Queste porte non si aprono così Non mi ricordo come si aprivano queste Vabbè, comunque Ad eccezione andiamo avanti, dai E più andiamo avanti che poi i video dureranno un po' più a lungo Ah Così Qua che c'è? Ah no, qua si scende Ok, si sale Eh, pardon Qua è facile Via Perfetto Spero che riuscite a sentirmi, ragazzi Spero che riuscite a sentirmi, almeno Andiamo avanti Ok, non problem Ahah Boss fight Sì, sì Boss fight, ragazzi Ecco, ve la ricordo sta zona Ok, perfetto Che ve l'avevo detto io? Aspetta, non mi ricordo nulla Ok 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 Bene Pensavi Vai, vai Cos'è se sto zitto Però mo' ci deve essere una boss fight Eh, infatti Eh, che palle Oddio, eccolo Uno degli antichi Aspetta, non mi ricordo Aspetta, non mi ricordo Come era Eh Gli hai staccato un pezzo Usiamolo contro di lui No, 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 no Ho sbagliato Dobbiamo farli fuori Con le sue stesse mani Raga Sbagliato io Vaffanculo Va Ha funzionato davvero Vai Vai Vai, vai, vai Non mi ricordo come si chiama Antico della pietra Ok, va benissimo Aspetta Vai, vai, vai Vai Non voglio usare Una furia di sparta Per questo Non mi ricordo Vai pure di sparta Vai Gli fa nulla Eh non ammazziamo a questi però Nel mondo degli elfi è proprio una rottura Gli coglioni proprio Ehi Cazzo Ho tolto metà vita Via Cazzo Via 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 Vai Kratos Vai vai Via 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 Scusate se sto ripetendo sempre via Vai 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 Perfetto Prendiamoci tutta sta roba Ho sbloccato una nuova abilità Ok Vai Grande Kratos Guardaci le spalle Ce l'abbiamo fatta per il rotto della cuffia Sì Sì Vediamo innanzitutto qua cosa c'è Ci mettiamo questa Che dite Che fa questa tempesta Danno più gelo Ci mettiamo questa dai Perché fa più danno Vedete Perfetto Mi va benissimo Grande Grande Kratos Grandissimo Dai vai Aaaaah Aaaaah La magia Aaaaah La magia Cerchiamo di salire Risali sul ponte al tempio ad anelli Ok, mi va benissimo Perfetto, perfetto ragazzi Come boss fight Questo era leggermente un po' più facile Ma leggermente, non più di tanto Quindi non c'è da stupirsene, guardate Andiamo, vai Kratos Sali e scendi Sali e scendi Questa è la storia È arrivato un ospite Entra nel tempio Va bene, andiamo avanti Andiamo avanti Perfetto Bellissimo, troppo bello Comunque questo ponte La porta Non c'è apertura Cosa? C'è un problema E qual è il problema Kratos? Questa porta non si apre Ehi Ma perché mettere una porta allora? Ehi Vieni Cerchiamo un'altra entrata Un'altra entrata Ah, fighissimo il panorama però Ah, bello comunque Molto interessante Secondo le statistiche dobbiamo andare di là Possiamo potenziarci qualcosa Vediamo un po' che posso potenziarmi Difesa e forza Ricompra Classifiche Non è che mi interessa Più di tanto Però L'armatura a braccio L'armatura a braccio Aumenta forza e ricarica Non vi so dire Guardate Un'altra armatura Vediamo un po' se posso potenziarmi un po' L'ascia O il ventaglio allo stesso tempo Però Potrebbe andare Ah, ci sono le tuniche però Ci sono le tuniche Però così me la posso potenziare L'armatura E mi dà più vitalità però E potenziamocela dai Tanto argento ce ne ho a quantità Tanto Argento ce ne ho a quantità Sballacci non mi interessa Armatura a braccio Vende della difesa Non fa proprio nulla Vabbè ora proviamo a potenziarci armatura Però questo mi dà un po' di vitalità E va bene così Penso che così potrebbe andare bene Che c'è qui? Ah, non l'ho mai visto Non l'ho mai visto Mai visto Mai visto ragazzi Questi Geroglifici In realtà sono simboli non reni Pardon Simboli non reni Aspettiamo che Atreus scrive Leggiamoci un po' Nel mostrario Oltre il mito Ogni Ogni altare Raccolta la storia Di un gigante leggendario E questi giganti Lo ritreveremo più avanti ragazzi Andando avanti col gioco Di qua Ci siamo Ecco Ecco Ma dobbiamo combattere Vai Kratos Fagli vedere chi è il re dell'Olimpo Anzi Pardon Il re dell'Olimpo Vorrei dire Il re della mitologia Norrena Quello mi interessa Non è che non si è più nell'Olimpo Ragazzi Non vi posso dire In realtà Che metamorfosi ha avuto Kratos Perché sarebbe uno spoiler Perché Per chi si è aggiunto da poco Kratos Sa che è il dio Di sparto Tutti lo sanno Tutti lo sanno Vai In realtà Queste combo Vanno bene pure così Dov'è quello Questa Non fa il soledico Stabilità Però Come vorrei che si attivasse L'abilità di sparta Cazzo Vai vai Guardate mi attivasse La furia di sparta Vai bravo Bravo Vai 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 Ah No C'è roba qua Vitalità Vai 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 No 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 Vai Si vede un cazzo Attiva sta furia di sparta Muoviti Pure questi Pure questi mo Ecco Dammi la pietra della resurrezione Non te la do Mi dispiace Che due palle Un altro po' E poi stacchiamo Raga Cerchiamo di farci Questa boss fight Vai Dai Kratos Per la miseriaccia Andiamo più avanti Vai Non li cacchiamo a questi Si va Sto punto Andiamo avanti Mi cazzo Di posi Va Possiamo andare avanti Oh Wow Davvero impressionante Che succede Perché non posso andare avanti Ok Ok Così raga Evitiamo di morire inutilmente Guarda Non lo so se E' favorevole a sta cosa Però Questo fatto qua Che li ho lasciati un po' stare Erano rompipalle Raga Quindi ho preferito Un po' andare avanti Anche se vai avanti Non succede nulla Perché la vita Me la vorrei tornare Di più in avanti Passiamo sotto all'anello Che magico pure poi Che succede Che succede Guarda Un elfo chiaro Cosa sta facendo Oh no Perché lo uccide Non ha fatto niente di male Non giudicare Stai assistendo Alla fine della guerra Non sai cosa abbia condotto a questo Ma non si è nemmeno difeso E' stata la sua scelta A noi la nostra Devo stare un po' zitto Raga Scusate ma sto zitto Per concentrarmi Vai Vai Eh pensavi di colpirmi E' un cazzo Attiva sta furia di sparta Madonna 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 Santa Dai 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 Vai 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 furia di sparta Dammela Vai Ok Devo trovarmi Quell'armatura Che mi aumenta La furia di sparta Raga Perché non è possibile Buttiamola di sotto Ok Perfetto Una nuova voce nel bestiario Elfo oscuro Elfo oscuro evocatore Questi sono in grado di chiamare rinforzi Perciò vanno eliminati più alla svelta Non sarà difficile individuarli Grazie alla luce sprigionata Dalle loro ali Quanti elfi oscuri di Hanuman Vai 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 Kratos Vai Vai Ok Arriviamo in un punto E vi saluto E vi saluto ragazzi Arriviamo a quest'altro punto E vi saluto Seguimi Seguimi Di va bene Più di strategia Questi qua Sono una bomba Questi cosi Evitiamo di morire inutilmente Grazie Noi mo muoio Mo muoio Mo muoio Sono nella merda Eliminiamo quelli la con le ali La vaffanculo Va Vabbè ragazzi Siccome non è che c'ho tanta voglia Finisco qua l'episodio Dai O basta Che non c'ho voglia Di morire inutilmente Allora Rifiniamola qua Ok Penso che per oggi Può andare bene Vi ho portato un bel episodio Dai Va bene ragazzi Io vi invito a lasciarmi Un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Qua da Sabit è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video